Una nuova barca a vela per l'associazione Scuola Vela Anza 303. È il progetto di Marinando 2.0 a Marina di Ravenna che Unicredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche della banca. Il contributo della banca ha permesso di acquistare una barca a vela Anza 303 e accessori per consentire attività velica e un percorso formativo inclusivo per persone con difficoltà. Marinando è sicuramente una realtà in continua evoluzione. Stiamo cercando di soddisfare tutti i bisogni che il territorio ci chiede nell'ambito della vela, nell'ambito del sociale, nell'ambito dell'agonismo. Quindi oggi siamo qui a presentare, inaugurare un altro passaggio, un nuovo step, una nuova imbarcazione che andrà a unirsi a quelli che abbiamo già per aumentare la nostra flotta legata a tutto quello che è l'aspetto agonistico della nostra attività. Questa è una barca di classe federale, quindi già noi l'estate scorsa abbiamo raggiunto risultati importanti nel campionato italiano e nell'interzonale e quindi chiaramente avere le barche ci dà la possibilità di mettere sempre più atleti in acqua e poter sempre più migliorarci.